Fiorilini, vorrete sapere sicuramente che cosa farò all'ultimo dell'anno di quest'anno, il Capodanno 2016 che sfocia nel 2017. Bene, sarò al Casinò di Sanremo, una delle situazioni per un artista più prestigiose, più belle, più importanti. Sanremo, la città dei fiori, la città del celeberrimo festival di Sanremo, senza il quale io forse non riuscirei a fare tutte le mie serate. Quante canzoni faccio che arrivano dal festival di Sanremo. Domani sera quindi sarò al Casinò per una serata sicuramente indimenticabile, per festeggiare insieme a voi il 31 12 2016. Ci vediamo domani sera al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Un caro augurio da Umberto Smaila a tutti voi.